Il Comitato degli Iscritti e la RSU della FIOM CGL della Ferriera di Servola di Trieste a fronte dell'articolo appasso sul quotidiano il piccolo del 6 maggio scorso hanno alcune precisazioni da fare in emerito. I lavoratori confermano di non avere alcuni pregiudizi e contrarietà all'acquisto da parte del gruppo Arvedi dello stabilimento, in quanto la manifestazione di interesse è già formulata, essendo stata ammessa e necessariamente conforme all'accordo di programma firmato da tutte le parti in causa e quindi garanzia della continuità produttiva del ciclo siderurgico integrale dello stabilimento. Tuttavia permangono le riserve sulla valutazione del piano industriale ancora non reso noto dall'azienda. A riguardo, i sindacati confermano che la posizione sindacale nella procedura di acquisto dell'azienda è vincolata ad un mandato preciso dell'Assemblea dei Lavoratori della Ferriera, nel quale è previsto il mantenimento di tutti i livelli occupazionali ed il mantenimento delle condizioni economiche normative in essere per i lavoratori. In questo contesto, pur registrando positivamente l'azione istituzionale fin qui svolta da tutti i soggetti, tranne che per la posizione assunta dal vertice dell'autorità portuale, vanno sciolti i nodi ancora aperti sul tavolo durante la transazione di vendita del privato. Alle istituzioni chiediamo di accompagnare il percorso sul progetto complessivo dell'area soggetta alla crisi industriale complessa, al fine di iniziare e risolvere anche a fronte degli inegenti finanziamenti pubblici il grave problema occupazionale che riguarda la città in ottica di definizione di un modello di sviluppo integrato e organico, realizzando una politica industriale in grado di rilanciare le attività industriali e logistiche, utilizzando di fatto anche i finanziamenti previsti dall'Europa che si potrebbero impegnare a riguardo. Nel contempo vogliamo impegnare tutti i soggetti coinvolti ad assicurare la ripresa e la continua attività della produttività delle attività e quindi cogliere le opportunità di beneficiare di tutte le linee di finanziamento che saranno attribuite dall'Unione Europea come espresso dalla risoluzione del Parlamento numero 2833-2012 del dicembre del medesimo anno, nonché delle risorse economiche previste dall'accordo di programma, così la RSU del Comitato degli Iscritti e FIOM CGL.